Salve a tutti, salve a tutti Ok, questo è il primo video che facciamo sul canale che è nuovo Abbiamo deciso di farlo per sia quella musica E per questi giochi che ci piacciono, gli adepigioso Sono bello Sì, vabbè, è un idiota Partiamo con il gioco, si chiama The Witch House È abbastanza... Sì, vabbè, lui l'ha fatto Io l'ho finito, quindi staremo qui a vedere che cazzo combina Idiota Ce l'abbiamo fatto dieci mila volte estinto, madonna che palle Siccome lui non è portato per il pc, allora Vabbè, ma perché comunque i programmi per registrare fanno tutti schifo Questo qua sembra più decente Che è? Che è? Vabbè, la prima parte la sappiamo Sì, vabbè, qua prendi il macete La macete La macete Vabbè, nel caso non ci avessi ancora giocato Per chi non ci avessi ancora giocato La storia non lo so Questo è il suo solo che si chiama The Witch House Siamo per spoilerare, cazzo No, vabbè, lasciamo stare Vabbè Madonna sei un idiota Ecco qua Vabbè Vi ho fatto una figura di merda e più voglio No, non fa niente Non ti la fanno Non è vero Solo non Ah, ma ci hai detto Non hai salvato No, no Non ti salva la vita No, non ti salva, no Allora, qui c'è una macchia di sangue E non ci va da sopra, c'è altri schiatti come un po' Come un po' Come un to-medo Ma no, cosa c'è? No, so No, ok Ah, sì Giu No, vabbè, non dà No, 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 no Sei idiota No, gira un po' No, basta, no, no, di più Riapri Riapri Dai, io non ci vede un cao Ti vede un cao Dai, riapri Eh, ok Non ti dico, io, ti dico io quando ti fermo Io Che va bene la luce Ok Dai, stiamo perdendo tempo Non gioco Basta Va, ok Va bene Va bene Ok, adesso è perfetto, finalmente, Chris Allora, ti Va bene, almeno sì Sì E' perfetto Quindi Vabbene Chi Che Boh Mbe, quelle che Mi piace Io so Mi hanno dato un cao in faccia Come ce l'ho, così Tanti che ci faccio Tanti Guardi, gli attaccanti sono tutti quei Tanto per la cronaca Le indossate per bellezza, queste cose Ne sono attaccanti Sato perché le pure si indossate No Dovete arrivato? Le codici Sì Sì. Vuole un biscotto? Esce di assalto. Bene. Sì. Perché non leggi? Vabbè, non ce l'ho già usato da qua. Non lo farò. Allora... Non hai mai saputo leggere le lingue. Perché si è spostato? Chi cazzo era? Ah, aspetta, questo non è ricotta. No, non è male che me la ricordavo. Al fine dei video mettiamo la parte in cui l'abbiamo fatto la prima volta e... Chi sei cacazuno? Sì. Sono i testicoli del... Sì, che impedivano... C'era il cazzo pro. Aspetta, qua com'era? Devi andare dall'altra parte. È già aperto. Sì. Ah, vabbè, devo dare le mani a questo. La tua mano. Non te la tua mano. No, perché devo morire? Devo schiattare con io. Non manco me la mano. Non schiatti, esplodi, diverso. Perché adesso c'è la chiave, si mette una cazzo di pozione. No. No, la lettera. Non so. Che cazzo ti serve una lettera? Nella pozione poi. Sì. Ma tu mai avevo fatto it? Sì, io ho fatto tutte le stronzate. E che succedeva? Ma giù questo già li fatti io. No, dico quando colpivi... Vabbè, voi lì. Cazzo è? Allora. Com'è bello il giocare. Senza l'hug, vabbè, ho il tempo reale. Sì, vabbè, non mi sembra che l'hug l'ho guarda. No, vabbè, non è sempre così. Guarda, hai visto? Ti ho detto che prima era passato. No, ti fai film. Non faccio, ok. Ok, siamo arrivati qua. Da qui non abbiamo fatto più niente. Guarda che da solo è molto più bello giocarci qui. Lo so, ma... Vabbè, il computer è tutto. Se non vuoi lasciare... Goccia. No. Te lo scarichi per me. Perché si vuole scelicare il computer. Vabbè... Devo scelicare assolutamente. Non ne voglio. Allora... È troppo difficile scrivere il titolo più down. E cliccare down. Allora... Allora... A lit? No. No! A book? No! 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 Allora... Si... Unseptime... ル- yüz-er-a-บiket a credo... Che svegliò... Che svegliò questa! E' un vecchio... Che svegliò questa! Che svegliò! Sì ok, non capisco, non capisco. Sì, non capisco. Scrivi un po', se tu hai il tempo, dico. Ma serio? Sì, era da sedia il ril. Tu non mi hai detto. Quando mi sono cagato sotto dell'altra volta, ti ricordi? Vabbè, sì. Vabbè, più o meno eravamo arrivati qua. Sì, vabbè, questo qua sono da fuoco. E niente, quale vuoi stare la stanza? Non so, stai io da qua. Allora. C'è su cui, mosca? Edsoni di... Boh. Non sai leggere in inglese, è quello che fa. Vabbè, traduci tu. Ma se mi vuoi leggere... Vabbè, questa parte... Oh, la sei già, cioè... Ok. Basta, da qui davvero non sappiamo più niente. No, lo so. Non è vero, non lo so. Vabbè, io su tutto. Cazzo... Ah, save the butterfly. Mi ricordo che c'era una stanza. C'era una borsa, c'era scritto. Sì, sì. Mi spazio è spore ice. He can't even tap course. Io ho... Spore ice, cioè agli occhi... Che modo. Vabbè... Poveri occhi, oppure vuol dire... Vabbè... Gli occhi... Che non funzionano tanto... Cioè... Ok. Vuol dire, insomma, che... Non riesci a vedere i colori separati, che sembra. Vabbè, però se mi vuoi... Però non c'entra niente, cioè io sono andato davanti e non c'entra niente. Cioè, devi solo scappare. Certo, Edinburgh. Certo, come si chi vale, ha dato che... Certo, che sono andato... Certo. Certo, come... No... Aspetta, no. No. quando ho fatto quella risata lo so ma pensavo che sei un idiota eh sono un idiota allora però io così non facevo a casa da solo eh o almeno mi viene che cazzo allora allora quindi la farfata non la possiamo prendere no adesso dopo tu non prendere mai cioè se capire la fine salva no ok non devi salvare il mio no allora qua sta scritto se lo hai fatto a fare ok quindi la c'è la mece di salvare la farfalla ovviamente senza morire vabbè mi sento vabbè è un gatto che c'ho no se c'è qualcosa no 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 perfetto di argentina non so però oggi link ramer non ho mai no mai mai no ma perchè vabbè ora dico che caccio io sono? boh come si torna indietro? x mi sembra vabbè torna indietro no muoio muoio sicuramente muoio di nuovo il ragno perchè un ragno avrebbe seguiti fino a qua? ci sono tantissime altre cose che avrebbero potuto dirci qua tipo vabbè vabbè ma eh cosa hai fatto? ti piacciono le mummie mi so sempre che ci dico il bambino, sai? si come clown sono le 6 e me vabbè aspetta vabbè perchè te lo vado a messa dsv che palle ora mi devo subire due cerchi le cose sei una palla vabbè salva però nooo non voglio dirti però non voglio neanche aspettare io dovevo prendere il culo eh qui c'è il ragno che non può distinguere i colori e non serve niente queste informazioni cioè no 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 serve 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 ora che riguarda ah ecco la corda si tu adesso la corda e cazzo ci faccio eh lo sapresti avessi letto oddio la mosca qua che cazzo vabbè almeno si è aperta la porta questo no quale porta? quando si è aperta la porta? eh ho senso no era quello che si spostava di no no non in questa stanza no è mmm in tre stanze? si ma questa qui da olio mmm vedi a lui gli serviva qualcosa si ah ah thank you thank you e di 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 eh eh muc of death si ok però io provo ad correre per inseguirlo però secondo me deve ammazzare il ragno ma hai visto quel ah il co con il libro scaccio un ragno di 5 tonnerate si no ok non so il libro della morte perché non puoi leggere? magari muoio adesso magari muoio adesso beh beh che cazzo fa? si stroppino gli occhi e poi muore non lo so comunque è inquietante si stroppino gli occhi e muore? no è che non so dico gli buono gli occhi ok 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 aspetta il libro ma il libro te ma ma l'avevi letto prima che mancava un libro da qualche parte si ah che ho è lui è lui no è donato no no mancava don'try no sei sotto il sei sotto il qualche viso no no non ci va no come mi diverso no 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 eh è più bello quando ci hai chiuso come cazzo dobbiamo fa? questo è quando cazzo è veloce è continuo eh scusa allora vabbè tu sei a posto forse ho capisciuto no aspetta no 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 devi fare la stessa cosa che ho fatto prima eh come faccio scappi eh dove con uno non so se hai notato la forma dell'altra stanza la forma eh questa vedi agiralo no tu sei matto le nostre cose non sono bravo a fare perciò mi diverto no 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 si adesso no quanto amo questo diciamo allora mi devi far gli lasciare gli lasciare ok si biscotti no biscotti no 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 ok dai prima che scatola un'altra volta i 10 minuti no donato non lo so fare nonna che chicca no è che non non so bravo e come cazzo devo fare c'è troppo dolce no 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 per fuoco e' una bo no ahahah muo' si io vabbè si ti sento qua io si ho nonna mia che schifo non mi guarda per me per perdere che sono tu qui vabbè Adesso è vecchio Adesso è vecchio Eh vabbè Mi confondi Dovevi dire che c'è? No, affondo Guarda come gioco io Oh! Ma lui che è venuto su? Eh perchè io sono più figo Ma ti faccio vedere come ti fa Di andare nell'angolo E poi prenderlo da culo Poi ti impura stanno in gioco Ma come stanno? Sette, madonna un video di 20 minuti facciamo la prima volta No, no, mi devo mettere un chino Sì Io sono più goglie a questo gioco Non posso essere venuto Dio, tu che sei così Dio, tu che sei Dio, tu che sei Dio, qui Mi fai paura tu che... Sopo Uff 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 Ok, adesso allora Ti puoi dogliere dalle palle Grazie Ti ringrazio Ma si apre la porta Si, a me non me frega Lo salvo Ah, giusto, lo devi fare tu stronzo Ok Ma tu sai che su queste cose è un po' bravo Tipo, no, ogni morivo ogni due se vuoi E adesso non c'è più, giusto? Certo No, no, se c'è ancora qui Stai mancando qualcosa No, io non ci torno laggiù In che c'è? No, non c'è No, davvero Era come l'urse Si Che dietro manca Qualcosa in questa strana Vabbè te lo dico dai, se no non cliccate Ehm, nel vetro Devi andare a dividere a sinistra la Questo? No Giù A sinistra Ma com'era? E' in mezzo? Forse riguardo male No vabbè, riguardo male Io ho preso Ho già preso il coso Questo, guarda Guarda il coso Ah, ho capito, aspetta Ho capito tutto Un genio Un genio Io l'avevo capito quando aveva preso Si, certo, certo Dai, c'ho soltanto un minuto per farlo Si Perchè poi esplode il Bandicam Li usiamo Bandicam, fa schifo No, è sempre Ammettito, sono il genio quelli che hanno fatto il gioco No, vediamo Perché non si muove Ah, ok Ma devi fare qualcosa adesso, no? Con la vera Si, ma il gatto Sono del genio Lo cazzo vale Perchè è aperto? 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 Perchè? 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 Perchè è aperto a dove? No, questo ha aperto ho perso vabbè andiamo a salvare non lo so non si è ancora abbia sopra di 20 minuti il primo video dai facciamo schifo guarda lo specchio guarda lo specchio devi mettere dove cazzo stava quell'altra capito è una cazzo di fafalla devi rimettere dove sta quella finta ce l'ho fatto si è uscito e poi si è ronso no qua qua dico nel senso devi prendere quella vera e mettere dove sta quella finta l'ho presa già quella vera prendere quella vera e metterla hai capito l'italiano prendere quella vera e mettere dove sta quella finta eh quella finta sta là la finta dove stava prima ci stava ah ma ho capito ma non ce l'ho non ce l'ho più eeeh devi mettere quella vera e guarda item non c'ho più nulla ah è volatilizzato allora mi ricordo male vai avanti e avanti dove con i cuscini no c'è cuscini penso si no si è inquietato ok basta io vabbè finiamo qua il video e alla prossima alla prossima spero che sia piaciuto bella cazzoni ciao 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 ciao